Ciao e bentornato. Nella lezione di oggi raccontiamo un piccolo ramo della fotografia di paesaggio che è la fotografia astronomica, quindi cercheremo di capire qual è la tecnica migliore per fotografare le stelle. Quindi condizioni di scatto non proprio ideali, esattamente come abbiamo visto anche per il tramonto, perché ci sono delle enormi differenze di luminosità tra i diversi soggetti presenti appunto in scena. Questo produttorio si può capire anche guardando queste due fotografie che ho fatto nello stesso posto la stessa sera, ero a San Pedro d'Atacama in Cile, uno dei posti migliori per fotografare le stelle, e vedi come cambia il paesaggio a seconda che la parte terrestre sia illuminata o non sia illuminata. Ovviamente stiamo parlando sempre di singolo scatto, la fotografia astronomica si presta particolarmente alla fusione di scatti e quindi lo riprenderemo anche successivamente. Ma vediamo come ottenere una buona fotografia delle stelle anche con un singolo scatto, affrontando appunto questo problema. Generalmente quando si fotografano le stelle con un singolo scatto è molto difficile avere il paesaggio completamente illuminato. In questo caso sono stato molto fortunato perché c'era un faro a lontananza che illuminava debolmente questa zona e il resto era completamente buio, quindi c'erano tante stelle e lo sfondo illuminato. Ma generalmente otteniamo delle fotografie che presentano il profilo terrestre come silhouette. Vengono comunque delle belle fotografie secondo me, ma se cerchi la parte terrestre completamente illuminata dovrai fare delle multiesposizioni e vedremo poi più avanti come fare. Dopo aver fatto questa piccola premessa vediamo brevemente qualche consiglio per effettuare al meglio le nostre fotografie sulle stelle. Innanzitutto, come tutta la fotografia di paesaggio è importante la pianificazione, quindi bisogna controllare il meteo, perché ovviamente se ci sono nuvole non si possono vedere le stelle, bisogna anche controllare l'umidità perché comunque una serata molto umida tende comunque a creare un po' di velo nell'aria e le stelle si vedono molto meno. Quindi niente nuvole e poca umidità sono le condizioni migliori per fotografare le stelle. Ovviamente come abbiamo detto prima non deve esserci l'inquinamento luminoso, quindi non possiamo pensare di andare a fotografare le stelle in piena città. Un altro aspetto fondamentale quando si fotografano le stelle è pensare alle fasi lunari. Abbiamo visto che ci sono molte applicazioni per studiare questo fenomeno, ma è importante sapere che avevo anche molto intuito che con la luna piena ovviamente si vedono molte meno stelle. Generalmente la percentuale di luna visibile deve essere non superiore al 20%. Puoi anche fotografare le stelle quando la luna è quasi completamente illuminata, cerca di farlo ovviamente prima che sorga o dopo che è tramontata. E sempre nella parte opposta dove è la luna. Poi dovrai pensare anche quando studi la location come sarà la tua composizione, non ovviamente nel dettaglio ma sapere se vuoi solo il cielo nella fotografia o anche una parte del paesaggio, perché anche questo aspetto è da non sottovalutare. Passando all'attrezzatura necessaria per la fotografia astronomica bisogna mettersi bene in testa che non possiamo pensare di ottenere delle buone fotografie delle stelle fotografandolo con il cellulare o con una compatta. In questo caso la fotocamera deve essere una buona fotocamera con un buon sensore perché la quantità di luminosità presente in cielo è veramente debole. Quindi per la fotografia astronomica sono indicate soprattutto reflex o mirrorless. Poi per lo stesso motivo anche l'obiettivo deve essere di qualità, soprattutto un obiettivo che presenta una alta luminosità, quindi una buona apertura del diaframma perché comunque ci servirà in fase di scatto. E poi visto che si tratta di fotografie con lunghe l'esposizione di parecchi secondi esattamente come abbiamo visto per i filtri servirà uno stabile treppiede e un telecomando di scatto remoto oppure nella funzione di scatto ritardato per non creare vibrazioni durante la fase di scatto e riducendo così la nitidezza della fotografia. Passando invece ai parametri di scatto la messa a fuoco deve essere assolutamente manuale, non mettere a fuoco all'infinito, comunque siamo molto vicini all'infinito, cerca di mettere proprio a fuoco su una stella, quindi utilizza la view, vai a zoomare e metti a fuoco su una stella molto luminosa e ti consiglio di indirizzare la tua fotocamera verso la via Lattea, verso la stella polare e anche in questo caso abbiamo le nostre applicazioni che ci aiutano in questo frangente. Quindi messa a fuoco il manuale su una stella con la view, tutte le stelle sono più o meno sullo stesso piano e ovviamente tutte saranno a fuoco. Gli altri parametri di scatto sono il formato assolutamente raw perché come sappiamo il formato che contiene la maggior parte delle informazioni e permette una post produzione veramente efficiente e la fotografia astronomica prevede una grande fase di post produzione per far esaltare lo scatto e tutte queste operazioni di post produzione le vedremo poi nelle prossime lezioni. Il diaframma invece deve essere impostato molto aperto perché comunque abbiamo bisogno di una grande quantità di luce che colpisca il nostro sensore e quindi generalmente non viene portato al di sopra del 5.6. Per lo stesso motivo anche il valore di ISO lo pompiamo molto di più che in altri frangenti dipende ovviamente dal tipo di fotocamera che sta utilizzando se regge le alte ISO ma ti consiglio di non superare mai i 6400 anzi tieniti più sui 3000 e anche più basso possibile ovviamente in relazione alla quantità delle prove e vedi un po' la luminosità e il rumore digitale del cielo come cambiano. Il tempo di esposizione invece viene definito con una semplice regola che viene chiamata la regola del 500. Questa regola viene utilizzata per ottenere delle stelle puntiformi. Come tutti sappiamo le stelle nel nostro emisfero ruotano intorno alla stella polare e quindi se noi impostiamo un tempo di esposizione troppo lungo invece per ottenere una stella puntiforme otterremo una sorta di scia. Quindi c'è un limite di tempo per il quale la stella o è puntiforme o comincia ad essere un pochettino allungata e si può ottenere appunto grazie alla regola del 500. Cosa prevede questa regola? Semplicemente è molto semplice 500 diviso la lunghezza focale utilizzata quindi se stai usando un 35 mm 500 diviso 35 mm e otterrai il tempo di esposizione massimo che puoi ottenere per avere la stella puntiforme. Attenzione però che la focale utilizzata fa riferimento alla focale reale quindi se stai utilizzando una fotocamera non full frame dovrai calcolarla con il fattore di crop. Quindi se per esempio immaginiamo di usare un'ottica con lunghezza focale di 50 mm e montiamo questa lente su una fotocamera Nikon APS-C che ha un fattore di crop pari 1,5 dovremo fare 50 mm per il fattore di crop per 1,5 quindi 75 mm. E quindi tornando alla nostra formula del 500 dovremo fare 500 diviso 75 e non 500 diviso 50. Un valore ben diverso. Quindi attenzione sempre al fattore di crop. E presta attenzione anche ad altri due fattori che le stelle più lontane dalla stella polare si muovono molto più veloce di quelle che sono più vicino a questa stella. Quindi dipende anche da dove vai a inquadrare nel cielo ma dipende anche dal sensore che hai perché con sensori molto densi la regola del 5 tipo superiore ai 24 megapixel la regola del 500 potrebbe non bastare e quindi puoi utilizzare la regola del 300 o la regola del 400 che sono praticamente molto simili semplicemente al 300 diviso la lunghezza focale utilizzata o al 400 diviso la lunghezza focale utilizzata e otterrai il tuo tempo a disposizione. Ti consiglio comunque di fare delle prove, fai uno scatto e guardi ovviamente andando a zoomare molto con il live view se la stella ti sembra puntiforme oppure un pochettino allungata e di conseguenza regoli il tempo a disposizione. Quindi questi sono i parametri ottimali per ottenere una buona fotografia delle stelle quindi tutto abbastanza semplice la cosa più difficile da fare è la messa a fuoco quindi prenderci un po' più di tempo in questo frangente e cercare andare a zoomare il più possibile con il live view. Ti ripeto questi sono i parametri fondamentali per una singola esposizione nelle prossime lezioni e vedremo la multiesposizione nella fotografia astronomica e creeremo veramente delle immagini altamente spettacolari. Ci vediamo nella prossima lezione.